Buongiorno, bentrovati, buon 28 gennaio. Oggi è la memoria di San Tommaso d'Aquino, il più grande teologo della Chiesa occidentale latina. Ecco il Vangelo di oggi, secondo il nostro rito ambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo il Signore Gesù e i suoi discepoli giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. Sceso dalla barca, subito dai sepolcri, gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Costui aveva la sua dimora fra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene e spaccato i ceppi e nessuno riusciva più a domarlo. Continuamente, notte e giorno, fra le tombe e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi e, urlando a gran voce, disse «Che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro, in nome di Dio, non tormentarmi!» Gli diceva, infatti, «Esci, spirito impuro, da quest'uomo!» e gli domandò «Qual è il tuo nome?» «Il mio nome è Legione!» gli rispose «Perché siamo in molti!» e lo scongiurava con insistenza perché non li cacciasse fuori dal paese. C'era là, sul monte, una numerosa mandria di porci al pascolo e lo scongiurarono «Mandaci da quei porci, perché entriamo in essi!» glielo permise e gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci e la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare. Erano circa duemila e affogarono nel mare. I loro mandriani allora fuggirono, portarono la notizia nella città e nelle campagne e la gente venne a vedere che cosa fosse accaduto. «Giunsero da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. Non glielo permise, ma gli disse «Va nella tua casa, dai tuoi, annuncia a loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te». Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui e tutti erano meravigliati. Parola del Signore Un brano bellissimo, complesso, un po' lungo anche da commentare, ma molto bello, che ci manifesta quante grande è la misericordia e l'amore di Gesù, la potenza del Signore contro i demoni e quanto grande è il valore di ogni uomo. Un uomo vale più di duemila maiali. Oggi spesso non è così. Ci sono persone che muoiono per strada e nessuno se ne preoccupa. Quanto vale un uomo? Ogni uomo ha un valore infinito. La dignità umana è voluta da Dio. Non dimentichiamolo mai. Ogni uomo è un nostro fratello. Ecco allora, guardiamo a Gesù, che anche in terra pagana opera miracoli. Infatti, allevavano i maiali perché erano pagani. In terra pagana opera miracoli perché è il Signore di tutti, degli ebrei, dei giudei, dei pagani, di tutti. La sua potenza è tale che sconfigge il demonio e tutti i demoni. Egli è grande nell'amore e nella misericordia e si preoccupa di chi soffre. Affidiamoci al suo amore e confidiamo nella sua misericordia, pregando per chi soffre di più e anche per chi oggi è oppresso dal nemico, dal diavolo. Preghiamo gli uni per gli altri. E preghiamo anche per i teologi, oggi Santo Maso d'Aquino, perché possano veramente insegnare la verità di Dio. a tutto il popolo di Dio. Buona giornata. Sialo dato, Gesù Cristo.